Buongiorno dall'unità ambientale della polizia locale. Nuovi controlli della polizia ambientale nel quartiere di Poggio Reale. In via Breccia a Sant'Erasmo scoperto uno scarico abusivo di materiale sanitario proveniente da una ditta da poco trasferita in zona. Gli agenti hanno sequestrato il veicolo che trasportava illegalmente i rifiuti e denunciato i presunti responsabili. Ancora sulla via Breccia a Sant'Erasmo sequestrato il camioncino di una ditta tessile per l'abbandono in strada di rifiuti speciali. A Chiaiano, in via Nuova Toscanella, la polizia stradale e la polizia ambientale hanno bloccato e sequestrato un furgone che sversava rifiuti in strada. L'intervento è stato possibile grazie alla precisa segnalazione di un cittadino. Per essere un buon cittadino sappi che i rifiuti si gettano nei cassonetti dalle 20 alle 22. In tutta la città si effettua la raccolta differenziata, separa i rifiuti prima di buttarli. Se sei in un quartiere servito dalla raccolta porta a porta, deposita i tuoi sacchetti fra le 20 e le 22. Negli altri quartieri di raccolta differenziata si fa con le campale colorate, dove il vetro, la carta, la plastica, l'alluminio possono essere gettati a qualsiasi ora. Vernici, solventi, liquidi tossici, oli vegetali non vanno mai versati nel lavandino o nel water, altrimenti ce li ritroveremo nell'ambiente. Raccoglili in contenitori separati e consegnali in una delle isole ecologiche distribuite su tutto il territorio. I rifiuti ingombranti, mobili, elettrodomestici, sanitari non vanno mai abbandonati in strada. Si può telefonare al numero verde via SIA 816 1010 che provvederà al ritiro gratuito sotto casa. Quando fai la spesa scegli prodotti con confezioni poco ingombranti e usa le borse di tela al posto le sacchette di plastica, così risparmi e non inquini.